un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni notondo ci troviamo nella chiesetta antica che ha visto la presenza di padre pio per tanti anni e qui padre pio a quel confessionale confessava le donne mentre nella sacristia interna confessava gli uomini oggi qui perché vogliamo parlarvi di perdono la vita di padre pio ci racconta padre marcellina senza nero nel suo libro è disseminata da incomprensioni mortificazioni per le quali lui non ha mai dimostrato un minimo risentimento ha sempre perdonato e questo voleva che fosse imitato dai suoi figli spirituali infatti sor pura pagani una suora morta in concetto di santità una testimonia della chiesa sua figlia spirituale che in confessione gli manifestava delle incomprensioni forti di torti ricevuti anche in ambito ecclesiastico padre pio le disse devi perdonare anch'io ho perdonato tu devi perdonare circa il perdono c'è proprio un'esperienza che ha vissuto un suo figlio spirituale mario lui racconta che nel suo ufficio l'ufficio di collocamento ci fu un'accesa discussione un operaio andò verso di lui dopo questa accesa discussione gli diede un ceffone un forte schiaffo ne seguì una denuncia denunce carabinieri l'operaio ricercato per essere poi arrestato non poteva rientrare a casa neanche per dormire e quindi siamo nel 1956 pasqua dopo moltissime pressioni anche di diversi amici mario ritira la denuncia parecchio tempo dopo viene qui a san giovanni rotondo per confessarsi da padre pio e appena inginocchiato nel confessionale quindi siamo nella sacristia antica padre pio gli chiese hai beneficato qualche padre di famiglia subito mario pensa a quello che era accaduto e alla denuncia che aveva ritirato e lui rispose sì padre ma questo mi è costato uno schiaffo appena dico questo vedo padre pio che si piega tutto da una parte in un attimo e poi si mette la mano sulla guancia come se avesse ricevuto uno schiaffo come se quello schiaffo racconta mario lo stesse ricevendo da lui in quel preciso istante io rimasi imbarazzato rimasi addolorato padre pio poi si rimise di nuovo in posizione e cominciò a dire da quanto tempo non ti confessi seguì la sua confessione poi la soluzione ogni tanto raccontava mario padre marcellino medito su questo episodio penso che padre pio abbia voluto mostrarmi che in realtà sono stato proprio io a dare a lui uno schiaffo quando vantandomi di essere un suo figlio spirituale non volevo perdonare a chi mi avevo offeso ma devo anche aggiungere che da quel giorno quando mi metto davanti al crocifisso in preghiera vedo quanti schiaffi colpi di flagelli io personalmente do a gesù con i miei peccati e quella lezione quel giorno con padre pio mi è stata salutare